La cardiopatia è una condizione medica che coinvolge il cuore e i vasi sanguigni. Include una vasta gamma di disturbi, tra cui cardiopatia ischemica, cardiopatia congenita, cardiopatia reumatica e altre. La cardiopatia ischemica è la forma più comune ed è causata da un ridotto flusso sanguigno al cuore, spesso a causa di arterie coronarie ostruite. Questa condizione può portare a infarto del miocardio o attacco cardiaco. La cardiopatia congenita si verifica alla nascita e coinvolge anomalie strutturali nel cuore. La cardiopatia reumatica è una complicanza di un'infezione da streptococco non trattata. I sintomi possono includere dolore al petto, affanno, affaticamento e gonfiore alle caviglie. La diagnosi e il trattamento dipendono dal tipo e dalla gravità della cardiopatia. La gestione può coinvolgere farmaci, interventi chirurgici o procedure di rivascolarizzazione coronarica. La prevenzione comprende stili di vita sani e il controllo dei fattori di rischio come il fumo, l'ipertensione e il diabete.